Anche oggi un grandissimo successo in termini di partecipazione in queste manifestazioni che ci vedono uniti con la Federazione Italiana Pallavolo per propagandare i principi elementari della sicurezza ferroviaria. Ma che c'è? Che vuoi amore tesoro? Lo voglio dire io! E lo vuole dire lei? Ma questa è un'intervista seria, non è che posso stare a perdere tempo, lasciatemi lavorare. Ecco, quindi questi principi dei quali stavo parlando prima, è molto importante per noi riuscire a portarli ai ragazzi utilizzando un linguaggio che sia ancora... Ecco, per l'appunto sarebbe importante che questi principi venissero testimoniati direttamente dai bambini protagonisti. Allora, cosa volevi dire? Nelle stazioni bisogna sempre stare attenti. Vabbè, allora io sono inutile, dai. Perfetto, è stata bravissima.